Il camper del Rotary contro l'alcolismo, sensibilizzazione nelle scuole, oggi qui all'istituto di Canicattì. Perché è importante ancora oggi cercare di sensibilizzare i ragazzi? Il nostro progetto è partito già da un bel po' di settimane perché il camper amico si muove in tutte le piazze della provincia di Agrigento, negli otto club service Rotary di Agrigento. In particolare la nostra azione serve per far conoscere veramente qual è il problema dell'alcol soprattutto fra i giovani. Perché nonostante ci siano delle campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, ancora il problema alcol non è effettivamente compreso nella sua pericolosità per tutto quello che riveste nell'ambito dei giovani che ne fanno uso e abuso spesso senza rendersi conto che ciò condizionerà tutta la loro vita. Per questo motivo il Rotary Club, il Rotary Club di Canicattì in particolare per quello che stiamo facendo oggi, si muove soprattutto nelle scuole ma anche nelle piazze dove c'è la cosiddetta movida per far capire ai ragazzi che un bicchiere di alcol in meno gli può salvare la vita. Queste sono iniziative che mirano veramente alla promozione culturale, sociale e umana dei nostri allievi. La nostra scuola è aperta al territorio e in sinergia nel caso di specie con il club service di grande rilevanza sociale come il Rotary ci impegniamo a fare una lotta a quello che è una delle piaghe più subidole per i nostri giovani che è l'alcolismo e la giornata di oggi è dedicata proprio a sensibilizzare una cultura anti-alcolismo nei confronti dei nostri giovani nella speranza che possano acquisire una cultura e una consapevolezza forte del danno che questo triste fenomeno porta non soltanto a loro ma anche alle famiglie per tutte le conseguenze che può creare. Ecco, la scuola è in trincea impegnata anche in questa direzione e il nostro dirigente scolastico, il professore Fontana, ha aperto la nostra scuola a tutte le agenzie educative che in questa direzione possano contribuire alla promozione umana e sociale dei nostri ragazzi. Comandate, oggi ho confronto con gli studenti. Parliamo di alcolismo, naturalmente è importante prevenire, sono importanti gli studenti di legge per reprimere ma gli studenti, i giovani di oggi, recepiscono questi messaggi secondo lei? Insomma, io faccio una premessa, l'arma è molto vicina a questo fenomeno tant'è che noi andiamo per le scuole per promuovere questo percorso sulla legalità ma il principio base è l'etica, l'educazione che deve venire effettivamente prima da casa, dopo dalla scuola perché la figura delle forze di polizia purtroppo è anche repressiva cioè quando noi interveniamo se non c'è una base solida di senso civico ed educazione di rispetto di loro stessi per il loro futuro, per la loro giovane vita purtroppo noi carabinieri arriviamo spesso tardi, tardi perché magari solo ci limitiamo a sanzionarli e a ritirargli la parente ma è tardi perché vuol dire che non c'è stata prevenzione o purtroppo arriviamo ancora più tardi, cioè quando purtroppo non possiamo fare nien l'altro e questo è l'augurio che io oggi faccio ai ragazzi, cioè di rispettarsi, di vivere la loro vita con serenità, di sapersi dare una misura per loro stessi perché loro hanno ancora un percorso davanti devono vivere il loro percorso con coscienza, loro stessi, come dico sempre a loro con una semplice domanda ma cosa facciamo? È giusto o sbagliato? Poi possono vivere la legalità come rispetto delle norme? Io dico sempre non bisogna conoscere le norme ma bisogna rispettare noi stessi e conoscere noi stessi I ragazzi debbono vedere le forze dell'ordine non tanto come istituzione solo repressiva ma ci devono vedere anche nella parte vicina alla gente Il fatto che stamani siamo qua in rappresentanza della Polizia di Stato e di altre forze di Polizia sta a significare appunto questo, la vicinanza e la sensibilizzazione al fenomeno che oggi si discute del fenomeno dell'alcolismo nei giovani e la conseguenza che produce che sono deleteri per quanto riguarda soprattutto quando dopo aver bevuto ci si mette alla guida di automezzi Grazie a tutti